Perrotta, poi a Totti al limite dell'aria, si ferisce largo, attenzione alla Roma con Vucinic, il cross di Vucinic per Perrotta! Roma che si porta in vantaggio al diciannovesimo del secondo tempo con Perrotta! Questo è Perrotta, l'inserimento è quello che gli chiedeva Ranieri, infatti l'ha messo centrale alle spalle di Totti proprio per questo, per questo l'inserimento è bravissimo, i tempi perfetti!